Sergio Dottavi sta sicuramente dimostrando alla sua Greta che è innamorato di lei, per ragazzi una persona sincera, seria e affidabile. Tutto quello che si può sperare di avere un fidanzato. Sergio Dottavi è talmente preso dalla sua fidanzata che è riuscito a farsi voler bene anche dalla mamma di Greta Rossetti. Marcella che ultimamente ha elogiato il ragazzo perché non solo è simpatico ma è anche un bravissimo chef. Tanto che la donna ha appoggiato l'idea di Sergio di fare il catering, pensate un po', a domicilio. Tutta la famiglia Rossetti è molto affiatata e hanno accettato Sergio con amore. Tanto che il ragazzo ora è una parte integrante della famiglia. Sergio è tornato per qualche giorno nel Circeo per lavoro. Infatti Greta ieri sera lo ha accompagnato all'aeroporto, ma il ragazzo presto ritornerà dalla sua bella Greta perché entrambi incontreranno domenica i loro fan a Verona e dura stare lontani dal proprio amore. Non credete? Grazie a tutti.